Fabrizio Corona, Capodanno in carcere insieme alla fidanzata Silvia provvedi pronta a passare le feste accanto alluomo che ama, in carcere a Natale e Capodanno per stare vicino a Fabrizio Corona. Le prossime vacanze Fabrizio Corona sarà costretto a passarle a San Vittore, carcere milanese dove l'ex paparazzo sta adesso scontando la sua pena. Accanto a lui però ci sarà Silvia provvedi, cantante del duo musicale Donatella, legata sentimentalmente a lui già da prima della carcerazione del suo arresto. A Nuovo TV la ragazza ha recentemente dichiarato infatti di avere l'intenzione di non voler lasciare solo il fidanzato in queste feste. Con lui vorrebbe passare anche il giorno di Natale ma, al momento, dovrà accontentarsi della vigilia e dell'ultimo dell'anno. Fabrizio Corona e Silvia provvedi, tra speranze e realtà. Nell'intervista viene anche chiesto alla cantante quali sono le sue speranze per l'anno nuovo. Il suo desiderio più grande rimane quello di vedere uscire dal carcere Fabrizio Corona. Quando accadrà farà di tutto per non fare mancare niente al suo uomo. Allo stato attuale delle cose, tuttavia, quello che più interessa a Silvia è stare accanto a Corona nonostante tutto, anche se questo vorrà dire trascorrere le vacanze in carcere. In ogni caso sarò con lui, anche a San Vittore, la vigilia di Natale il 31 dicembre dichiara la provvedi al settimanale. Un impegno questo a cui lei stessa, stando a quando ha fermato, non intende certo sottrarsi. . Nuovi progetti lavorativi, le donatella tornano in tv. Frattempo la compagna di Fabrizio Corona è pronta a tornare in tv insieme alla sorella Giulia. Le due hanno già avuto modo di lavorare insieme in passato. . Dopo il successo riscosso ad X Factor le donatella hanno partecipato poi in coppia all'Isola dei Famosi, dimostrando di essere tanto decise e determinate. . Silvia e Giulia Gennaio invece saranno le protagoniste di danze, danze danze, il talent di Sky dove le ragazze si sfideranno gli altri concorrenti a colpi di danza. Io e mia sorella ci stiamo impegnando tanto ha detto Silvia, Fabrizio. Mi ha detto se tu e Giulia non vincete e ti lascio io. .